Dopo aver visto l'ennesimo post di Frida in cui vengono usati asterischi a caso giusto per, ci tenevo a chiarire una cosa fondamentale. Poi, oh, ognuno è libero di fare quel che vuole, eh? Lo sapete, eh, amici come prima. E lo faccio con l'aiuto di una grande linguista, Cecilia Robustelli. E vi consiglio di leggere anche questo suo articolo, visto che ce stiamo. Le domandano, insomma, il sessismo linguistico, è insito nella lingua che parliamo. La risposta della linguista è no. Il sistema della lingua italiana in sé non è sessista. Anzi, ci dà la possibilità di esprimerci in modo del tutto rispettoso della differenza di genere. Possiamo scegliere cosa dire, quindi evitare, per esempio, gli stereotipi. Possiamo nominare uomini e donne e non solo uomini. Possiamo scegliere il genere grammaticale maschile o femminile di articoli, sostantivi, aggettivi, pronomi, participi in base alla persona, uomo o donna a cui ci riferiamo. E continua. Quindi sta a noi compiere le scelte linguistiche che riteniamo più opportune nella consapevolezza che la norma linguistica non è eterna e immutabile. Questo lo sappiamo. E che l'uso della lingua può cambiare nel tempo, ma anche che interventi artificiosi, aggiungo io, come Sheva e Asterischi, sul meccanismo della lingua possono, alla fin fine, complicare inutilmente la vita del parlante. Perché la lingua è un meccanismo complesso che generalmente assume da sé la struttura richiesta per l'equilibrio del sistema. È quindi il linguaggio, cioè il modo in cui usiamo il sistema della lingua e non la lingua a rivelarsi sessista. Capito? È il problema, so, ai parlanti, non la lingua, poraccia. A chi non c'entra niente? Chiara? Chiara? Grazie a tutti.